Delle vere e proprie mini case accampate abusivamente nascoste sotto il ponte prima della foce del fiume Irno nel pieno centro di Salerno. E quanto lo speciale nucleo di decoro urbano e ambientale della Polizia Municipale di Salerno guidato dal capitano Mario Elia ha scoperto e sgomberato questa mattina con la pattuglia speciale dei caschi bianchi guidati da Rosario Battipaglia ed in collaborazione con gli altri enti interessati alla bonifica dall'Asla all'ARPAC a Salerno Pulita di quello che era un vero e proprio accampamento abusivo. Mobili, materassi, vestiti, c'era di tutto all'interno della casa sotto il ponte, una cucina vera e propria dove sono stati trovati anche borse e oggetti sui quali ora verrà fatta una ricerca per comprendere se possano o essere meno provento di furti. Quello degli accampamenti abusivi sotto il ponte del fiume Irno a Salerno è un problema ciclico che si ripete. La presenza di persone che si erano stanziate alla foce del fiume era stata più volte segnalata dai cittadini ma l'intervento ha dovuto attendere la disponibilità di una ditta specializzata nella rimozione delle suppellettili. Non è stato semplice infatti per i mezzi dei vigili urbani e dell'azienda interessata alla rimozione scendere sul lungo Irno. Durante l'intervento un vigile urbano si è anche procurato una lesione alla mano cadendo proprio a causa delle impervie condizioni in cui si trova la zona. Sul posto per seguire le operazioni di bonifica anche il presidente di Salerno Pulita Enzo Bennett, il capo staff del comune di Salerno, Enzo Luciano, il presidente del consiglio comunale di Salerno Dario Loffredo. Al momento dell'intervento non sono state ritrovate persone all'interno dell'accampamento abusivo. Sicuramente è un fatto che si rivede purtroppo increscioso ciclicamente, quindi stanno gli operatori della Polizia Municipale, il capitano nostro Mario Elia e stiamo bonificando la zona perché effettivamente Zeppati erano vere e proprie case arredate, stanze arredate. È stata la necessità di una ditta specializzata per la rimozione dei rifiuti ma non è stato ritrovato niente di particolare? Al momento non risulta niente di particolare, soltanto Masserizia, Superlezzili, sì una ditta particolare per la rimozione di questi rifiuti.